Il progetto della continuità territoriale che avrebbe permesso ai siciliani di volare con tariffe agevolate anche dagli aeroporti di Comiso e Trapani è naufragato almeno per il 2016. La notizia, già di qualche giorno fa, come abbiamo trattato anche nel nostro Tg, ha suscitato una serie di reazioni a catena tra la delusione per chi credeva che la questione fosse ormai chiusa e le rassicurazioni che la regione si è affrettata a fornire sul fatto che i 15 milioni stanziati saranno per così dire congelati in attesa di tempi migliori, ma non andranno persi. L'assessore Giovanni Pistori ha inoltre precisato che questi soldi sono spiccioli rispetto all'esigenza di assicurare tratte sociali per un anno dai due aeroporti siciliani. Basta infatti tenere che le tratte sociali da Eperlampedusa e Pantelleria costano ben 35 milioni. Tra Palermo e Roma bisognerà reperire quindi altre risorse, a cominciare dalle reggi di stabilità che i due parlamenti dovranno approvare per il prossimo anno. Il nostro augurio, ha dichiarato Pistorio, è che il governo nazionale possa trasformare l'appostamento per le tratte sociali siciliane da una tantum ma strutturale. Un altro aspetto che non gioca a favore della partita è che il Pio La Torre si trova attualmente sprovvisto di un consiglio di amministrazione attento e capace di seguire tutta la questione, a cominciare dall'individuazione e dall'istituzione di nuovi collegamenti da Eperl a aeroporto di Comiso, di cui tanto si è parlato senza arrivare a nulla di concreto. L'attuale fase di stallo del CDA, senza presidente e senza amministratore delegato, che perdura ormai da mesi, è un altro nodo che ci si auspica venga sciolto velocemente da chi ha a cuore le sorti dell'aeroporto Ibleo.